Ancora da definire la dinamica dell'incidente, quel che è certo è che l'autobus ha colpito lo spigolo di una casa con violenza, distruggendo gran parte della lamiera e danneggiando in modo rilevante anche l'abitazione. Il bilancio è di 15 feriti non gravi che sono stati portati nei pronto soccorso di San Martino, Villa Scassi e Lavagna. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 15 a San Colombano Certeno, lì in località Prato Ufficioso. La corriera di AMT, un mezzo della linea 15 Genova-Gattorno-Achiavari, stava percorrendo la strada 225 della Val Fontana Buona in direzione Tiguglio. Due auto hanno provato a sorpassarlo e una lo ha scontrato. Una macchina lo stava sorpassando, una seconda macchina sorpassando la prima macchina intenta in questa manovra, ha toccato le ruote direzionali del mezzo e l'ha fatto sbandare contro una casa. Si vedono anche le tracce dell'urto come è avvenuto. Siamo intervenuti sul posto con i nostri funzionari dell'esercizio e i tecnici e le prime ricostruzioni sono queste. L'autobus ha riportato gravi danni alla carrozzeria. Anche l'auto coinvolta è stata portata via dal carroattrezzi. La strada è rimasta chiusa circa tre ore per permettere ai vigili del fuoco, polizia stradale e ai tecnici di AMT di effettuare i controlli e le verifiche del caso e poi provvedere alla bonifica dell'aria. Gravi danni anche per l'abitazione all'autostrada che è stata centrata dal mezzo pesante. I residenti non erano presenti all'interno al momento dell'impatto. La sindaca di San Colombano Certeno, Licarla Casella, ha spiegato che tre stanze dell'edificio in corrispondenza dello spigolo incidentato sono state dichiarate inagibili. Alcune delle persone ferite che viaggiavano sul bus erano studenti. Sul mezzo erano presenti dai 20 ai 30 passeggeri, posti limitati, a causa delle disposizioni anti-Covid.